Società partecipate Molise Maglia Nera ha il numero maggiore di società pubbliche inattive ma non cancellate, situazione fotografata da Ires, centro studi che fa capo alla CGL. Boiano e Campo di Pietra non aderiscono all'Egam, un no convinto dell'amministrazione guidata da Peppe Notar Tommaso a sorpresa il voto della città matesina che in prima battuta aveva detto sì e adesso si è espressa contrariamente all'unanimità. Disaggi sui treni, interrogazione di ruta, il senatore ha chiesto al governo cosa intenda fare per risolvere una situazione intollerabile per i molisani, treni vecchi da sostituire e inconvenienti ogni giorno. Psicologia analitica e mito dell'immagine è il titolo del libro di Angelo Malinconico, direttore dei servizi per la salute mentale in Basso Molise, un dialogo con Paolo Aite, un percorso alla ricerca del senso della vita. Nuovi imprenditori per il Campobasso, vicino il passaggio di quota ai campani della DL Group, i fratelli De Lucia vogliono la maggioranza. Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale. Continua a crescere il numero delle società partecipate che spesso sono utili solo a regalare una poltrona ai politici trombati. La situazione è stata fotografata dall'IRES, il centro studi della CGL, da quale risulta che il Molise incima la lista per le società pubbliche inattive, ma non cancellate. Sentiamo i dettagli in apertura da Giovanni Minicozzi. Il centro studi della CGL nazionale, l'IRES, ha fotografato la situazione delle società partecipate in Italia ed i dati sono raccapriccianti. Uno scenario popolato da ben 8.893 società finanziate con risorse pubbliche e cresciute a ritmo galoppante, nonostante l'obbligo alle dismissioni imposto per legge. Nel solo periodo, compreso tra il 2000 e il 2014, sono state create circa 5.000 nuove società fino a raggiungere il rapporto di una ogni 6.821 abitanti. Molte di queste, però, secondo il rapporto IRES, risultano inattive. Ben 1.663 sul totale di 8.893, pari al 18,7%, scatole vuote che servono solo a pagare le indennità ad amministratori nulla facenti. Nel Molise risultano inattive, ma non sciolte. Il 31% delle partecipate e la Regione occupa il terzo posto in negativo. I dati sono stati commentati dal giornalista Sergio Rizzo su Repubblica.it. Le società pubbliche sono diventate un comodo strumento per aggirare i divieti e gonviare gli organici, peraltro, senza dover fare concorsi. Spesso sono poltrone riservate ai politici trombati, ha scritto Sergio Rizzo, e come dargli torto. In questo scenario risulta emblematico il caso molisano dei fallimenti della gamma e dello zuccherificio che hanno cancellato centinaia di posti di lavoro e azzerato un patrimonio pubblico di circa 70 milioni di euro. Per dirla tutta, tra le partecipate funzionanti, invece, c'era una volta Molise Acque, ma dopo la cacciata di Piero Neri, decisa da un emendamento notturno di Paolo Frattura alla finanziaria regionale il 28 aprile 2015, la confusione ha preso il sopravvento anche nell'azienda speciale. Debiti dei comuni e di altri enti non riscossi, disorganizzazione gestionale, promesse di assunzioni clientelari con l'avvicinarsi della campagna elettorale. Peraltro, un decreto ingiuntivo accolto dal Tribunale nel mese di novembre 2016 per un debito del Comune di San Martino in Pensilis risalente al periodo 2010-2014 è sparito nel nulla, decreto mai opposto dal Comune di San Martino che ora risca il danno erariale dalla Corte dei Conti perché al capitale di oltre 500.000 euro vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria che potevano essere evitati con l'opposizione giudiziaria o con una transazione. Queste sono le regole della trasparenza amministrativa e della legalità, ma il Molise di tutti somiglia sempre di più a una regione senza regole, ovvero la regione delle banane e dei papaveri. La Corte dei Conti del Molise ha dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria di oltre 4 milioni e mezzo di euro avanzata dalla Procura anche nei confronti dell'ex governatore Iorio e di altri componenti dell'ex giunta regionale Nicola Cavaliere e Luigi Velardi, nonché del commissario straordinario protempore della comunità montana Fortore-Molisano di Riccia Giuseppe Campoglieti. La vicenda finita sotto la lente dei giudici contabili riguarda i lavori di costruzione della strada di collegamento tra la Fondovalle, Tappino-Riccia-Colletorto, San Giuliano di Puglia, Statale 376, all'innesto con la strada che si sta realizzando tra Santa Croce di Magliano e la Statale 87. Gli avvocati difensori Vincenzo Colalillo e Fabio Dagnone si dicono soddisfatti per la decisione della Corte dei Conti. Con questa pronuncia hanno detto si conclude un'ulteriore fase, quella inerente alla conduzione dell'appalto relativa alla realizzazione della predetta opera pubblica. La Corte ha seguito le nostre tesi, hanno spiegato Colalillo e Dagnone, affermando che l'inutilizzabilità dell'opera, solo contingente e non definitiva, in assenza di una concreta individuazione, contestualizzazione, e personalizzazione del danno da risarcire, non può mai dare luogo a una responsabilità contabile. Ecco perché è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda risarcitoria. Parliamo adesso del Legam perché il Consiglio Comunale di Campo di Pietra ha ribadito il no all'adesione, a sorpresa anche l'amministrazione comunale di Boiano, che in prima battuta aveva aderito all'ente, ha votato contro all'unanimità. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Si allarga il fronte dei comuni che dicono no a Legam, l'ente di governo dell'ambito del Molise, un ente da più parti considerato l'ennesimo carrozzone, che apre le porte alla gestione privata delle risorse edriche del Molise e che la Giunta regionale ha voluto istituire a tutti i costi, anche dopo lo stop imposto dal Tar, al quale si erano rivolti 16 comuni. Ad ogni buon conto le amministrazioni comunali che avevano detto no in prima battuta non stanno facendo altro che confermare la posizione contraria all'adesione. Il caso del Consiglio Comunale di Campo di Pietra, che è all'unanimità dei presenti, ha ribadito il no deciso a Legam, dunque nulla di nuovo per l'amministrazione guidata dal sindaco Notar Tommaso. Da tempo che avevamo già deciso questa strada, quindi stiamo continuando questa battaglia, se così si può chiamare, per difendere quello che per me è un diritto imprescindibile, cioè l'acqua non può essere trattata come una merce qualsiasi, non può essere in qualche modo ceduta a terzi per la sua gestione, la gestione deve essere assolutamente territoriale, perché più si allontanano le responsabilità dai territori e peggio purtroppo, devo dire, è per i cittadini, quindi in termini sia di qualità dei servizi, ed è quello che preoccupa, non prescindendo poi dal fatto che sicuramente costeranno molto, ma molto, molto di più. Quali sono le conseguenze, secondo lei, di questo no, espresso dal Consiglio Comunale? Io mi aspetto il commissariamento perché la legge prevede questo, anche se poi anche su questo c'è da dire. Io non sono inadempiente, io ho deliberato, quindi è un atto politico e in democrazia l'atto politico va valutato prima ancora di essere accettato, quindi noi l'abbiamo valutato e abbiamo ritenuto non opportuno aderire a questo ente di governo. È un ennesimo carrozzone, diciamo, che poi andrà a cadere sulla pelle di tutti i cittadini come costi, sommandosi poi alla società di gestione, che potrà essere pubblica o privata, ma i costi comunque andranno anche quelli a carico dei cittadini. E se oggi noi siamo abituati a chiamare il sindaco a mezzanotte o luna perché manca l'acqua, nel giro di qualche ora vediamo in qualche modo risolto il problema, poi dovremo abituarci al call center che in magari mezza giornata non saremo stati capaci di parlare neanche con l'operatore. Questo è quello che ci aspetta, se non nessuno si ribella, insomma, in qualche modo. Ma sulla vicenda EGAM si registra il clamoroso colpo di scena che è arrivato da Consiglio Comunale di Boiano che all'unanimità ha espresso voto contrario all'adesione all'EGAM nonostante prima battuta avesse votato a favore una vittoria politica per Massimo Romano all'opposizione nell'attuale consigliatura. Ma le sorprese per il governatore Frattura potrebbero non essere finite perché anche da Campobasso non arrivano segnali rassicuranti per lui. Il Consiglio Comunale, convocato per aderire all'EGAM, è stato aggiornato a lunedì prossimo per l'assenza in aula della maggioranza senza che in molti hanno letto come un ripensamento dell'amministrazione battista sull'istituzione e sull'adesione all'EGAM. Questa sera, come sempre con inizio alle 21 su Telemolise, ultima puntata di Moby Dick, prima della pausa estiva. Sotto i riflettori della balena bianca, l'attualità e la confusione politica nazionale e regionale in vista delle prossime scadenze elettorali, senza trascurare il dramma del lavoro che non c'è, della dilagante povertà che ormai ha aggredito anche il ceto medio e si parlerà anche di sanità. Sono questi dunque i temi su cui si confronteranno separatamente Danilo Leva, deputato articolo 1 MDP, Gaetano Quagliariello di Idea, Federazione della Libertà e l'ex ministro Antonio Di Pietro. Continuiamo e torniamo a parlare di disagi sui treni molisani perché c'è un'interrogazione del senatore Roberto Ruta al Premier e ai ministri di Infrastrutture, Trasporti e Finanze e Economia. Sentiamo. Non passa giorno che non ci siano disagi sui treni molisani, ritardi, guasti, mancanza di aria condizionata, bagni rotti, fermate di ore in aperta campagna in attesa del bus sostitutivo, a portare tutti a destinazione dopo una vera e propria odissea. Chi viaggia sul Campobasso Roma lo sa bene. La musica, purtroppo stonata, è sempre la stessa che si tratti del vecchio treno, del nuovo swing con buona pace degli entusiasti governanti molisani, novelli, improbabili capotreni e macchinisti e delle loro trionfali dichiarazioni durante il viaggio inaugurale proprio dello swing. Intanto il senatore Roberto Ruta ha presentato un'interrogazione urgente al Premier Gentiloni e ai ministri di Infrastrutture, Trasporti ed Economia e Finanza. Vuole risposte immediate su quella che definisce una situazione intollerabile per i molisani che viaggiano in treno. I diesel ancora in circolazione sono inadeguati, ha spiegato il senatore. Mezzi vecchi penalizzano il collegamento con le regioni limitrofe, sottoponendo i viaggiatori a un vero e proprio calvario, in particolare sulla tratta Campobasso-Roma. Motivi che hanno indotto Ruta a chiedere al governo se conosce la situazione, se ritiene che i piani di investimenti di ferrovie dello Stato e Trenitalia per i prossimi anni, siano adeguati a garantire un servizio di trasporto ferroviario degli utenti molisani conforme agli standard qualitativi europei. Quali le iniziative per migliorare il servizio in Molise senza più treni vecchi e inadeguati? Se si vogliono sostituire con acquisto straordinario o messa in disponibilità di nuovi, l'interrogazione di Ruta è stata inviata per conoscenza anche ai vertici di ferrovie e lo Stato e Trenitalia perché, ha detto, in assenza di risposte e di azioni tempestive, agirò in ogni sede con tutti gli strumenti predisposti dall'ordinamento giuridico vigente per tutelare i diritti dei cittadini. Intanto, in una nota, la consigliera regionale di opposizione Angela Fusco-Perrella, oltre a contestare la decisione della regione di acquistare i treni swing, ricorda come i disagi e i problemi per i viaggiatori molisani non siano stati assolutamente risolti, anzi, le cose stanno peggiorando, ulteriormente di qui la richiesta all'assessore Nagni di intervenire con urgenza per migliorare il servizio sull'intera rete ferroviaria molisana. A cronaca, un uomo di Giuliano, di 31 anni, è stato arrestato dai finanzieri della compagnia di Isernia per detenzione spaccio di droga. Complessivamente sono state sequestrate circa 100 pasticche di ecstasi. Il giovane, già seguito da tempo dalle fiamme gialle, è stato fermato sulla statale 158 nei pressi di Colli a Volturno, era a bordo di un pullman partito da Napoli e diretto nei centri turistici abruzzesi. Gli uomini della finanza lo hanno perquisito trovando 80 pasticche di ecstasi. L'altra droga è stata rinvenuta successivamente nella sua abitazione. Al termine degli accertamenti il campano è stato rinchiuso nel carcere di Ponte San Leonardo e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dei finanzieri della compagnia di Isernia proseguono per individuare eventuali complici e risalire ai canali di rifornimento delle sostanze stupefacenti. Sbloccati i pagamenti per le imprese della pesca che aspettano da tempo e i rimborsi del fermo degli anni precedenti. Intanto per la prima volta la flotta della marineria termolese resterà all'ancora a settembre con lo stop fissato dal 28 agosto all'8 ottobre con la disponibilità di pescato locale nel periodo di maggiore afflusso di turisti. Fabrizio Occhionero Una data molto attesa e mista all'incertezza sui pagamenti del pregresso. Ora tutto è stato chiarito e la marineria termolese può programmare le attività per le prossime settimane, quelle che impegneranno il settore nel periodo di maggiore afflusso di turisti e villeggianti e di consumo di pescato dai ristoranti alle cucine delle case al mare. Per la prima volta il fermo biologico lascerà i motopescherecci all'ancora a settembre invece che in piena stagione turistica, in dettaglio dal 28 agosto all'8 ottobre, nella zona che comprende i porti che vanno da San Benedetto fino a Termoli, una novità discussa al Ministero delle Politiche Agricole ed evidenziata dalla parlamentare Laura Venitelli come un risultato significativo che, ha affermato la deputata del PD, premia l'impegno portato avanti per andare in conto alle esigenze della marineria termolese, confermando anche il peso di termoli nelle decisioni nazionali che riguardano questo importante comparto. Da San Basso alla Sagra del Pesce non serviranno deroghe per uscire in mare rifornire di pescato locale le attività. Domenico Guidotti, presidente di Federcopesca, ha ringraziato in una nota la Venitelli per aver condiviso questa impostazione, ricordando poi anche la questione dei fondi e dello sblocco dei pagamenti del fermo attesi dagli armatori e dalle loro famiglie. Come preannunciato nel corso dell'incontro tenuto con il sottosegretario Giuseppe Castiglione, il direttore generale Riccardo Rigillo, ha spiegato Guidotti, sono state pubblicate le prime graduatorie per il pagamento del fermo Pesca 2015 e a breve ci saranno le prime liquidazioni per oltre 1.300 destinatari a livello nazionale e un fondo di circa 6 milioni di euro. Entro la fine dell'anno i pagamenti per il successivo. Intanto il settore programma le uscite in mare per un agosto non di fermo, ma di piena operatività, a beneficio di tutte le realtà impegnate con un valore aggiunto nella stagione turistica e ricettiva. E sul prossimo fermo l'Associazione Armatori Pesca del Molise ha espresso moderata soddisfazione pur ribadendo il dialogo condiviso tra le parti. Anche quest'anno, ha spiegato il presidente Basso Cannarsa, non è stato possibile bloccare le attività in primavera, tra maggio e giugno, il nostro appello viene ignorato inspiegabilmente. Il responsabile di Federpesca ha evidenziato anche la disparità di trattamento rispetto alla possibilità di scegliere alcuni giorni relativi al fermo dell'attività concessa invece ad altre imprese che operano comunque nelle stesse aree di qui. La richiesta avanzata da Cannarsa di favorire una soluzione migliore e più equa per tutti gli operatori della marineria termolese. Molise sono meno poveri ma il dato relativo resta ugualmente drammatico. L'Istat conferma che nel 2016 il 18,2% delle famiglie molise ha speso meno di 1.061 euro al mese e peggio solo Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania. Sentiamo. Molto lontani dalla media nazionale ma al di sotto di quella del sud. I molisani nel 2016 sono meno poveri di prima. L'incidenza è del 18,2%. Nel 2015 era del 21,5%. Un decremento del 3,3% che non si riscontra a livello nazionale dove nel 2015 il tasso era del 10,4%. Nella ripartizione del mezzogiorno la regione con meno poveri è l'Abruzzo. Drammatica la situazione in Calabria, segue la Sicilia, poi la Basilicata. Meglio che in Molise si sta, oltre che in Abruzzo, in Puglia e in Sardegna. Il dato regionale, se emerge perché nella condizione stabile della povertà in Italia va nettamente in controtendenza, dall'altro conferma la grande distanza del Molise dal centro e dal nord. L'incidenza qui registrata è al quinto posto fra le più negative. Sono i dati del rapporto Istat, che analizza la povertà relativa e quella assoluta. Quanto alla seconda, la soglia è stabilita in rapporto alla spesa per consumi di una famiglia. Ad esempio, per un adulto che vive solo è pari a 817,56 euro al mese se abita al nord, a 733,09 euro al centro e a 554,03 euro se al sud. Nel 2016 si stima siano 1.619.000 le famiglie in condizione di povertà assoluta, 4.742.000 persone. Rispetto al 2015 si rileva una sostanziale stabilità della povertà assoluta in termini sia di famiglia sia di individui. L'incidenza di povertà assoluta per le famiglie è pari al 6,3% in linea con i valori stimati negli ultimi 4 anni. La povertà relativa invece viene calcolata sulla base di una soglia convenzionale. La soglia di povertà per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media mensile pro capita nel paese e nel 2016 è risultata di 1.061,50 euro. Le famiglie composte da due persone che hanno una spesa mensile pari o inferiore a questo valore sono classificate povere. Nel 2016 si stima siano 2.734.000 le famiglie in condizione di povertà relativa per un totale di 8.465.000 individui. Psicologia analitica e mito dell'immagine dialogando con Paolo Aite per le edizioni Vivarium Milano è il titolo del libro scritto da Angelo Malinconico, psichiatra, criminologo, direttore dei servizi per la salute mentale in Basso Molise. Un percorso alla ricerca del senso della vita attraverso le immagini che dimorano in ognuno di noi. Ce ne parla il nostro direttore Emanuela Petescio. Non è un saggio destinato agli addetti ai lavori. Psicologia analitica e mito dell'immagine di Angelo Malinconico varca il confine della nicchia scientifica e diventa quasi un romanzo. Il romanzo, a tratti anche autobiografico, delle psicologie e del profondo alla ricerca di un senso. Il punto di riferimento attorno al quale ruotano storie e percorsi analitici è Paolo Aite, figura storica e carismatica dello junghismo italiano, maestro dello stesso Malinconico e interprete di spicco della terapia psicoanalitica associata alle immagini, nota come gioco della sabbia. Il paziente si racconta anche attraverso le arti figurative e completa il senso delle sue parole con il disegno. In un lungo dialogo immaginario con Paolo Aite, fatto di lettere, ricordi, riflessioni, spunti raccolti perfino nel bel mezzo di una passeggiata, utili pensieri insaturi, come li chiama lo stesso autore. Angelo Malinconico ci spiega come e perché le parole, da sole, siano insufficienti e talvolta perfino distruttive quando non corrispondano all'esperienza simbolica in atto. Le immagini del passato, del presente o del futuro alla fine corrono in aiuto di entrambi, allievo e maestro, sia per esprimere appieno la psiche, sia per indagarla in quel rapporto analitico unico inviolabile che lega il paziente al suo analista. Un rapporto oggi diverso dal passato più autentico, più paritario, più umile, fatto quasi di insegnamenti reciproci, attento a non scivolare nella iubris, la stima esagerata di se stessi e della propria potenza che impedisce all'uomo di riconoscere i propri limiti ipotecando qualsiasi interpretazione analitica. Psicologia analitica e mito dell'immagine vuole essere dunque un omaggio al grande maestro junghiano Paolo Aite, ma alla fine è un libro che conduce il lettore in punta di piedi in quel labirinto di immagini e di emozioni che dimorano in ognuno di noi e che arrancano alla ricerca di un senso. Ho voluto fare un omaggio al maestro Paolo Aite, che è uno dei fondatori dello junghismo in Italia, allievo analizzato di Bernard che ha portato in Italia Jung e attorno a cui è nato un cenacoro negli anni 50-60 e di cui faceva parte uno su tutti Federico Fellini. e questo omaggio è anche l'occasione per parlare di immagine, immagine in senso psichico, in senso filosofico, metaforico. L'adulto può tirare fuori con il gioco della sabbia le immagini del passato o le immagini di cui cerca un senso? Beh, intanto viene messo l'accento su un aspetto storico, biografico, perché Paolo Aite è stato il primo a utilizzare con sistematicità il gioco della sabbia nell'adulto. Il gioco della sabbia era nato con la Calf in Svizzera ed era utilizzato esclusivamente con i bambini. Paolo Aite l'ha utilizzato negli adulti perché è rimasto colpito dalla capacità che ha l'adulto di regredire funzionalmente la crescita proprio in terapia e proprio attraverso il gioco. Quindi non esiste un'età specifica ma tutte le età sono buone. Tra l'altro, dovendo proprio citare Jung, quando parla di archetipi, cioè di immagini a priori che sono dentro di noi, una di queste immagini è il puer, quindi il bambino, e avendo ognuno di noi un bambino che ha bisogno di giocare, vuole esprimersi giocando, offrirgli la possibilità di giocare in terapia è una grande chance. Durante un incontro organizzato a Pozzigli è stato dato ufficialmente il via ai lavori di scavo nell'area archeologica individuata ridosso del Centro Servizi del Neurome e della Direzione Scientifica del Progetto che coinvolge studiosi e studenti provenienti anche dall'estero è stata affidata all'Università Tor Vergata di Roma. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Ci sono molte aspettative sugli scavi archeologici avviati a ridosso dei locali del Centro Servizi del Neuromed di Pozzigli. Le varie stratificazioni abbracciano infatti un periodo che va dal IV secolo a.C. all'VIII secolo d.C. I primi rilievi effettuati un paio di anni fa hanno permesso di individuare dei reperti legati alla lavorazione dell'olio alcune monete e una necropoli ma in questa area potrebbe esserci molto altro per questo la Fondazione Neuromed ha chiesto e ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali la concessione di scavo e ricerca mentre per i lavori destinati a coinvolgere studenti e studiosi provenienti anche dall'estero è stato firmato un accordo con l'Università Tor Vergata di Roma la direzione scientifica del progetto un vero e proprio cantiere scuola è stata affidata alla professoressa Andreina Ricci si può agire in due modi o facendo ricorso a dei professionisti e basta oppure cogliendo quest'occasione per formare dei giovani archeologi in questo caso ci sono con noi un gruppo di archeologi esperti e poi ci sono dei giovani archeologi dell'Università di Roma Tor Vergata ma anche di vari paesi europei i giovani laureati e studiosi svizzeri poi un drappello abbastanza nutrito di studenti e studiosi del Regno Unito Ampia soddisfazione per l'inizio dei lavori è stata espressa dal presidente della Fondazione Neuromed Mario Pietracupa che ancora una volta ha scelto di investire sulla cultura e in particolare sulle risorse del territorio molisano Noi abbiamo investito in questa iniziativa anche in termini finanziari notevolmente perché ci crediamo crediamo appunto di poter dare questo segnale di novità senza cultura senza investire in ricerca non c'è futuro per le nuove generazioni quindi le nuove generazioni noi le coinvolgiamo perché riteniamo che possano diffondere un virus proprio come una pandemia che è quello dell'entusiasmo Molise di per sé ora al di là di questa iniziativa può essere davvero un grande laboratorio bisogna crederci e investirci noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo quello che conta come nel caso specifico ritengo che lo stiamo dimostrando è il gioco di squadra insieme alle altre istituzioni L'importanza del gioco di squadra tra il pubblico e il privato è stata sottolineata anche dalla soprintendente archeologica del Molise Teresa Elena 54 che tra l'altro ha avuto un ruolo decisivo nella trattativa che ha portato il ministero a dare il via libera agli scavi è importantissimo che all'attività di tutela che normalmente svolge la sovrintendenza quindi l'attività di ricerca si affianchino anche altre istituzioni in particolare questo è un cantiere che vede insieme la collaborazione con l'Università di Roma è importante un'occasione di conoscenza e dalla conoscenza si può partire per fare una valorizzazione positiva non solo dei singoli siti ma di tutto il territorio e per il Molise questo è importante in Molise ci sono delle eccellenze che bisogna però far conoscere all'esterno dei confini della regione Al via la tredicesima edizione di Gets in Campo Gets in Galdo sei serate dedicate appunto al Gets sentiamo Valeria Farina l'attesa è stata palpabile la musica attesissima e la calura di una sera d'estate ha reso tutto ancora più coinvolgente una prima serata quella che ha aperto la tredicesima edizione di Gets in Campo e Gets in Galdo suggestiva che si è svolta a San Giovanni in Galdo ospitiamo questa carmesse importante raggiunto nei dieci anni in cui si è svolta a Campo di Pietra livelli altissimi i nostri primi anni comunque abbiamo raggiunto abbiamo obiettivi abbastanza importanti tenteremo anche nei prossimi anni di alzare il tiro e quindi di raggiungere un livello importante Gets in Campo e Gets in Galdo diventato ormai tradizione per gli appassionati del genere musical negli anni è cresciuta come manifestazione riscuotendo successo e vedendo arrivare i nomi più importanti del panorama gessistico mondiale Siamo contenti perché insomma tredici anni sono tanti tanti sacrifici tanti sodori tante gioie qualche amarezza anche insomma è inutile nasconderla però ecco una manifestazione che dura tredici anni significa una manifestazione strutturata significa una manifestazione che ha fatto passi da gigante significa la gente ci è stata vicina e forse abbiamo fatto la scelta giusta nel 2005 e se oggi siamo ancora qui credo che questa tradizione ormai la possiamo considerare per molise vada perseguita ancora per tanto tempo Il direttore artistico dell'evento Simone Sala alla guida della Kermess già da diversi anni si dichiara soddisfatto dei risultati raggiunti finora e invita tutti alla seconda serata del festival Io sono arrivato proprio l'anno in cui San Giovanni in Galdo è entrata nel festival credo che la vicinanza geografica abbia sicuramente aiutato perché questo connubio si formasse e abbiamo scelto di volerci aprire come festival agli altri paesi e vi posso anticipare che già per l'anno prossimo ci sono diversi comuni che vorrebbero seguire San Giovanni Per la seconda serata San Giovanni in Galdo invece abbiamo la prima vera guest star diciamo del festival ogni tanto ogni anno il festival porta dei grandi personaggi si è creato un legame tra l'altro proprio partendo da Pino Daniele con Ernesto Vidolo che ci è venuto a trovare poi James Enese e alla fine quest'anno il pensiero è andato a Tony Esposito ci eravamo già incrociati come musicisti e li avevo anticipato che ci sarebbe piaciuto averlo al festival La manifestazione è motivo d'orgoglio anche per i sindaci dei paesi che ospitano l'evento San Giovanni in Galdo al suo terzo anno consecutivo e Campo di Pietra dove jazz in campo è nato e dove si terranno le ultime quattro serate dal 19 al 22 luglio prossimo anche perché questo è un modo per far conoscere ancora di più il Molise e la sua cultura per noi è una gioia un onore far parte di questa rassegna noi diciamo che vogliamo diffondere il nostro territorio la nostra cultura le nostre tradizioni le nostre peculiarità all'esterno le note che avete sentito sono del quintetto di Michele D'Amora e il trio di Daniele Scannapieco tutto pronto anche a Doratino per la quarta edizione del Festival della Giovane Canzone d'Autore dedicato ad Ugo Calise da oggi fino a domenica 16 tutte le sere alle 21.30 in paese concerti e stand enogastronomici animeranno le strade del paese è tutto per l'edizione delle 14 del nostro telegiornale grazie per averci seguito dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo intorno alle 15 buon pomeriggio grazie per aver guardato grazie per aver guardato